Io qua ci resto fino a quando lo dico io. Tengo che faccia detto. Ciao. Grazie a tutti. Uè, non mi riconosci di salvo. Sono Rosa Ricci, la sorella di Giro. Ci avremo più ora. Non mi riconosci, la sorella di Giro. 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 Ma va a fare un culo di salvo. Non mi riconosci, la sorella di Giro. 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 Non si riconosci. Ma è tutti in piedra di白. Un preved che ha conosciuto l'odio. Gli insulti. La tenda come capo. e io non ho già potuto fare niente, mi ha già donato a forza di ricominciare una volta per l'amore del mio canale e per te, quasi l'unico che mi capisce, e ora l'unico desiderio che tenga è essere una buona amica per te, lo sai che vuoi dicere? Grazie. Tarantè ha così da già chiamare, una caramella. Dammi cà, la uso solo per far grinkle sound, attimino. Grazie. 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 Ehi, non mi riconosci? Non mi rompono, cazzo, cazzo. Tarantè si proprio bava a fare smr. Ehi, c'è prima roba, tengo una sorpresa per te. A presto. La prima parte del video è terminata. Per vedere la seconda, clicca qui.